da zaino a tutti voi benvenuti a questo mio momento confessionale in questo mio video sono qua la mia cameretta immagino di essere nice e immagino questo ragno che viene giù dal soffitto e mi dice che questo momento che sto vivendo lo vivrò infinite volte questa è la teoria dell'eterno ritorno anticipata da nice nella gaia scienza se ci pensate è bellissima nel 1881 all'età di 37 anni dice si trovava in engadina a silvaplana un luogo pieno di alberi montagne con lago un posto bellissimo immerso nella natura e durante la mattina il pomeriggio lui faceva delle passeggiate e queste passeggiate gli hanno rispirato la sua riflessione filosofica infatti c'è la filosofia del mattino la filosofia del meriggio quella del mattino è quella dove decreta la morte di dio e quindi si svegliano il mattino se pensate la giornata può essere una metafora della nostra vita c'è il risveglio il mattino dove ci sono i nostri genitori i nostri ispiratori nel caso di nice c'erano schopenhauer c'era chi è che lo ha ispirato il mondo come volontà e rappresentazione sul primo libro filosofico che ha letto e poi c'era wagner la sua musica che lo ispirava questa questo dionisiaco questa forza e così è arrivata la consapevolezza della morte di dio dio non esiste dio è morto qualcuno gli uomini l'hanno creato per poi ucciderlo la morte di dio delinea alla fine del creazionismo se vogliamo ragionare in termini scientifici no infatti in quel periodo c'era la teoria dell'evoluzione che stava prendendo darwin che stava prendendo piede l'evoluzione della specie e poi nella sua riflessione ovviamente questa riflessione tutto si ripeterà infinitamente no è significativa ci pensate c'è un ciclo che si ripete c'è il mattino e poi arriva al pomeriggio pomeriggio dopo che hai decretato la morte di dio ti rendi conto che non c'è una creazione e quindi non c'è neanche la fine se non c'è una creazione non c'è neanche la fine tutto si nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma mi ricorda qualcosa forse la vozie ebbene questa intuizione di queste persone arrivano tutte quasi nello stesso momento e poi c'è la sera la sera che forse il momento più angoscioso nel momento del dionisiaco la notte fa trionfare il dionisiaco e cos'è questa teoria dell'eterno ritorno questa che è una delle condizioni essenziali per essere un superuomo quindi la morte di dio l'eterno ritorno il mondo come volontà e rappresentazione cioè la volontà la volontà di potenza l'uomo può tutto e decide la sua morale decide come vivere l'uomo è calato una dimensione di libertà e di responsabilità come dirà heidegger come dirà sartre come affermeranno gli esistenzialisti in sostanza e quindi lui la racconta con una metafora in cui si parla a zaratustra ma io lo posso che ho già detto in un altro video me lo posso spiegare un po in termini matematici supponiamo di voler lanciare un dado mille volte per la legge dei grandi numeri dopo un numero uno ricorrerà un certo tot di volte un sesto delle probabilità no numero due uguale fino al numero sei insomma prima o poi ricapita è quello che ti sta dicendo no se una cosa di successo non è che non ti ricapiterà più un giorno va in cucina e poi il giorno dopo vai di nuovo in cucina poi torni in cucina anche il giorno dopo poi magari fai la vacanza però dopo un po ritorni nella tua cucina e così anche le emozioni le positive e negative le cose brutte le cose belle e a volte ti ricapitano anche nella stessa successione comunque siccome abbiamo un numero finito di possibilità nell'infinito scorre del tempo queste possibilità si ripeteranno infinite volte in sostanza quindi il numero sei comparerà è comparso una volta comparerà di nuovo e poi di nuovo ancora e poi di nuovo ancora questa è la nostra dimensione noi facciamo parte di qualcosa di più grande di noi la filogenesi ciò che è venuto prima ciò che è venuto dopo no e c'era questo questo mito che lui narra che lice narra in così parlò a zaratustra che diceva appunto che c'era questo nano che rappresenta l'essere umano il uomo cammello forse un pochettino non so che con zaratustra che il profeta che è stato mandato in terra per dichiarare i suoi errori per dichiarare i suoi sbagli no che erano gli sbagli relativi alla morale che aveva imposto sugli uomini e che però poi anche quella è fallace fallimentare e quindi questo zaratustra procede su questa strada e a un certo punto c'è una passo caraio come un non so come si chiama un arco dove si ferma e dopo c'è un'altra strada quindi c'è un la strada del passato praticamente la strada del futuro che sono unite da un nodo da un nodo che però non fa in modo che sono uniti ma separati che non sono la stessa linea perché in mezzo c'è questo nodo questo nodo che è il presente che si ripete infinite volte su questa immagine circolare che il super uomo deve accedere a queste immagini super uomo è un'aquila è un'aquila che volge verso il cielo che ha la vista più alta di tutti gli altri esseri viventi vede tutto e quest'aquila tiene in bocca un serpente in un semplice di circolo ma questo serpente non se la vuole mangiare l'aquila vuole non vuole mangiarsi il serpente in realtà l'aquila li si avvolge attorno al collo l'aquila rappresenta il serpente si avvolge al collo dell'aquila e il serpente rappresenta il dionisiaco le cose di cui abbiamo paura le forze razionali l'ess potremmo dire la Freud e l'uomo l'oltreuomo abbraccia l'aquila abbraccia le cose belle come le cose brutte la gioia come la tristezza queste emozioni se noi possiamo ragionare sull'eterno ritorno sia in termini di emozioni che di situazioni se abbiamo provato un'emozione negativa associata a un evento probabilmente di nuovo proveremo questa emozione negativa associata a quell'evento lì e poi di nuovo ancora e poi di nuovo ancora e a volte questa diventa coazione a ripetere come abbiamo visto in un altro video quando l'uomo si fissa sulla stessa emozione associata alla stessa situazione che si ripete infinite volte quindi diventa l'incubo diventa le cauchemare direbbero i francesi e poi mi sono perso come al solito quasi quasi mi viene un po sonno e mi avvio verso la morte che il sonno è la metafora della morte l'ontogenesi ripercorre la filogenesi così come l'ontologia ripercorre la filologia ognuno ha la sua ontologia ognuno dà importanza a una certa dimensione dell'esistenza e quella secondo me di Nietzsche era la verità come metodo quella espressa da un altro filosofo esistenzialista che abbiamo citato precedentemente della della... mi sta venendo solo mi dimentico le cose il... non è importante insomma comunque il... questo fatto della ripetizione infinita è il nostro destino e lo dobbiamo abbracciare e forse cerchiamo di esorcizzarlo per paura della morte per paura del buio della sofferenza anche gli stessi che rivivono le stesse situazioni che danno sofferenza a volte lo fanno però proprio per ridurre l'angoscia perché se no l'angoscia è troppo forte solo a pensarci allora ripetiamo questa situazione infinita è quasi paradossale ma sembra il detto di ipocrate d'altronde era quello similia simili bus curantur cioè le cose simili si curano con cose simili quindi uno quando ha avuto un trauma relativo all'evento lo ripete nei suoi sogni infinite volte e quindi è condannato a rivivere l'evento quindi l'oltreuomo accetta questa dimensione esistenziale anzi ne fa una filosofia di vita no? meglio un giorno da leone che mille giorni da pecore no? a caso gli animali ricorrono sempre no? anche in Nice ma... e anche nel... in quello che... così parla Zaratustra anche lì c'è un pastore il pastore che... il pastore che conduce il greggio e le anime che viene aggredito al collo da un serpente che lo vuole mordere lo vuole uccidere allora lui cosa fa? lui invece se lo mangia il serpente quindi l'uomo cammello diventa uomo leone che sa affrontare la vita ok? che accetta la dimensione di sofferenza di tristezza di sconforto la freccia nelle carni avrebbe detto Kierkegaard che è una dimensione della nostra esistenza a volte ne facciamo una coazione a ripetere anche Kierkegaard forse del suo amore per Regine ne ha fatta una coazione a ripetere però forse ci piace a volte la sofferenza ci dà sicurezza oppure a volte la rifugiamo comunque è sempre una dimensione esistenziale boh forse questa è la mia lettura serale di Nice quindi non avrei altro da aggiungere vi lascio ai vostri sogni grazie a tutti